E ciao a tutti ragazzi, non credo benvenuti di Quattro Maggio Raga, è appena iniziato il cupro Cupro tra Ungheria e Italia Quindi facciamo un po' questa partita 0-2 E grandesima prova dell'Italia Ma complimenti soprattutto all'Ungheria Non girone a Entrifero ha fatto bellissimo E comunque noi andiamo alle final 4 Comunque insieme a Croazia e Olanda E una si deciderà domani tra Spagna e Portogallo A questo punto spero di beccare insieme finale la Croazia Questo è il punto In modo tale che mi possa giocare la finale con una Con una tra Spagna e Portogallo e Olanda E anche se mi capitasse l'Olanda Il segnale andrebbe bene Basta che non becco Portogallo o Spagna A me va bene Debuto di Mazzocchi, è appena entrato da poco Segnano Raspadori e Di Marco E ormai è iniziato anche il secondo di recupero Ne mancano altri due Secondo tempo ragazzi, solo Ungheria Sto sincero, solo Ungheria nel secondo tempo Quindi complimenti anche oggi a Ungheria Emozioni anche durante l'inno per Shalai Che ha fatto l'ultima parte da col Ungheria Bella prova comunque Comunque raga Siamo ai final 4 Questo era importante Non era facile perché comunque All'inizio c'erano Inghilterra e Germania L'Ungheria non l'avevo contata Però sono contento Per questo è tutto Lo scelto del che si pede Che ha tirato la campanella Forza Azzurri